Questa sera Renzo Arbore torna a Foggia, torna nella sua città, torna nella nostra città, torna per fare a tutti noi un nuovo regalo, così come lo ha fatto nel concerto del 15 agosto del 2015. Qui, come vedete, è tutto pronto per accoglierlo e questa occasione non ce la faremo sfuggire, perché sapremo accoglierlo con il calore e l'affetto di noi foggiani. Io ci sarò, vi aspetto.